ok andiamo allora video sulle versioni gratuite di sketchup perché 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 ce n'è più di una e far confusione è veramente gratuito sono gratuite anche queste versioni online però bisogna un po capirsi perché alcune hanno certe funzionalità altre ne hanno altre non tutti sanno neanche che ne esistono più di un tipo mica tante però ragazzi veramente ha fatto secondo me un po la confusione qua su con le versioni di sketchup che metta basta perché mi sono posto questo problema perché dopo il manuale del 2018 di sketchup che di cui è seguita poi la seconda edizione pochi mesi fa dopo il manuale di v-ray del 2019 mi sono detto ma perché accontentarmi di due manuali e non farne un altro quindi pensavo di fare un manuale anche su sketchup free sul modellatore online gratuito di cui adesso vediamo poi le caratteristiche perché sembra incredibile ma veramente messa mi toccata fare una tabella excel per venirne fuori piccola parentesi quindi per docenti e studenti che mi scrivono mi contattano per questo tema qui ce l'ho in mente sì di fare un manuale corsi video corsi dedicati alla versione sketch up for school che chi non lo sapesse un po la versione sketch up free ma dedicata alle scuole adesso entriamo un po nel merito di queste varie tipologie di licenze dopodiché se farò veramente un manuale oppure no non lo so mi piacerebbe tantissimo fare proprio un eserciziario vediamo insomma ma sì sicuramente andrà in porto non so minimamente quando quindi intanto vi informo con questa bellissima tabella che mi sono messo giù per schiarirmi un attimino le idee da dove cominciamo allora intanto c'è la versione gratuita sì che c'è la versione gratuita di sketch up c'è chi conosceva sketch up make fino al 2017 sono passati ragazzi sette anni non mi sembra neanche vero c'era la versione vecchia gratuita di sketch up si chiamava sketch up make poco importa non esiste più o comunque non è più stata aggiornata quindi insomma ora se vogliamo usare gratuitamente sketch up dov'è che vado questo è lo studio di otto kliman quindi non vado in studio adotto kliman ma vado su sketch up free scrivo lo trovo si trova online non metto neanche il link per insomma si trova facilmente basta avere un account trimble me lo creo gratuitamente entro dentro questa è la schermata e quindi mi faccio i miei modelli le funzionalità adesso le vediamo un po più nel dettaglio questi che vediamo intanto sono elencati alcuni degli esercizi a cui stavo lavorando tipo ad esempio mi piaceva sto porta matite esercizietti di questo tipo dai cosette semplici ma che però fanno sempre bene per tenersi allenati nella modellazione 3d allora la versione è veramente free totalmente free e questa qua in alto e alcuni non lo sanno ma magari avendo la versione lo sketch up pro la licenza pro di sketch up se ce l'hai tu che mi stai ascoltando sappi che in realtà hai una serie di funzionalità in più rispetto alla versione veramente totalmente gratuita di sketch up qui le vediamo poi elencate sulla destra prima di andare nel dettaglio insomma delle varie funzioni incluse o non incluse qui sulla destra vediamo elencate quelle che mi interessavano di più per intenderci fra cui diffusion diffusion rendering con l'intelligenza artificiale c'è o non c'è nella versione online non poteva mica esser sì o no la risposta è ni dipende dalla versione che ho tanto qua ho sbagliato guarda tabella talmente varie guarda errori guarda errori vabbè torniamo a noi allora la versione free online totalmente gratuita è un conto vuol dire che veramente non ho una non ho una licenza sketch up non ce l'ho neanche mai avuta non ho proprio niente la versione sketch for school faccio vedere un attimo perché magari tanti non la conoscono ed è vado in un altro browser perché mi sono dovuto loggare con un altro account è quella dedicata alle scuole che magari non tutti lo sanno ma per le scuole in italia c'è gratuita g suite non entro tanto nel merito cos'è g suite cos'è g suite insomma vuol dire che fra le app google attivate google o non google attivate a livello di istituto scolastico c'è anche sketch up free che prende quindi il nome di sketch up for school qui apro modello a caso quindi con la scritta in alto a destra sketch up for school ovviamente anche questo abbastanza limitato eccolo qua sketch up for school ovviamente rispetto alla versione pro quella che si installa sul pc queste sono tutte molto limitate è l'unica che forse forse si salva è la app per ipad che fa veramente tante cose per essere su un dispositivo mobile quindi andando avanti qua infatti quindi cos'è che c'è lo sketch up for school abbiamo appena visto lo sketch up go che è una cosa un po per hobbisti quindi 115 ad oggi 9 febbraio 2024 costa 115 euro all'anno comunque forse funziona online per hobbisti diciamo per qualcuno che insomma proprio non è un vero e proprio professionista non gli interessa layout come si vede le funzionalità incluse veramente sono poche 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 rispetto a sketch up pro dov'è che sono a vedere stata bella per chi volesse sketch up italia punto it sezione prezzi e si può vedere proprio una comparazione fra le licenze quelle a pagamento il go fa un po ridere un po' sinceramente perché insomma rispetto a sketch up pro quel punto prendo sketch up pro che costa di più però caspita è quello lo strumento veramente professionale comunque qua stiamo parlando delle versioni gratuito simili gratuite sketch up for ipad ce l'ho inclusa nei piani go pro e studio e non c'è per android quindi è proprio una app da installare su ipad è veramente interessante secondo me è peccato che sia solo per ipad non c'è su android però però veramente figata perché realtà aumentata puoi schizzarci dentro c'hai diffusion sketch up viewer invece proprio l'app semplice app per android che tanti magari già l'ha vista o magari tanti invece non lo sanno te lo puoi installare sul tuo telefonino e vedere in realtà aumentata ecco ad esempio questa funzionalità qui adesso ce lo scrivo ni ci scrivo dentro ni perché in realtà la realtà aumentata c'è sì ma è a pagamento se non hai nessuna licenza sketch up se invece hai un abbonamento a sketch up pro ti installi la app sketch up viewer nello smartphone questa cosa qua diventa si cioè capite perché veramente ti serve una tabella e anche anche una tabella scrivo si barra no alcuni buchi qui ci sono perché vuol dire che quella cosa non è applicabile per quella versione di dello strumento ad esempio sketch up free ovviamente lo uso online sul sul pc e quindi non è che mi metto a fare la realtà aumentata ovviamente nella realtà aumentata è una cosa che faccio con i dispositivi mobili tipo ipad e viewer quindi insomma quella cosa che mi è balzata all'occhio è che veramente certe cose ci sono sì ci sono dipende un po da che versione stiamo considerando allora 3d warehouse accesso ce l'hanno tutti live components vai ma vai e te a capire perché nella versione gratuita si è in quella per le scuole no vabbè modificare gli stili e materiali non so se cioè veramente se ne siete mai accorti se avete mai provato a indagare ma caspita nella versione veramente totalmente gratuita di sketch up la free vera e propria non puoi mica modificare negli stili nei materiali caspita se è limitata mentre nelle altre due versioni un po sorelle diciamo quindi il for school e il go questa cosa è possibile farla strumenti solidi non ci sono nella versione gratuita ci sono nelle altre ma ovviamente non ci sono nel view per sketch up che è solo visualizzatore viewer lo dice il nome diffusion che caspita non c'è per le scuole c'è non c'è neanche la versione totalmente gratuita quindi gliela mettono dentro a chi paga a chi paga sketch up go e sketch up for ipad aggiungi posizione anche qua da mettersi le mani i capelli ora mappa satellitare stradale mappa stradale ma non con il 3d nella versione for school solo mappa stradale ma non ti da il modello 3d invece il go hai l'accesso completo go ricordiamola è la versione in cui comunque si sborsa qualcosina quindi le funzionalità qua sono tutte sì controllo dei solidi per la 3d interessante bello c'è per le scuole watermark rimane sul sketch up for school cioè tu esporti in immagine ti resta la scritta sketch up for school vabbè che puoi tagliare l'immagine ovviamente ma insomma realtà aumentata come dicevo prima per alcuni di questi dispositivi non è proprio applicabile invece per ipad veramente bello veramente interessante facciamo vedere un esempio al volo esempio vecchio ma sempre interessante secondo me crea un disegno l'oggettino in 3d e lo sposto e lo visualizzo nella stanza quindi ho sovrapposti per far vedere che era praticamente veramente grande uguale quindi ho disegnato l'oggetto direttamente dall'ipad e poi lo visualizzo nell'ambiente che mi circonda come se fosse nella stanza questo con le calze con le calze rosse sono io se te lo stavi video veloce veloce di panoramica un po su tutte le versioni spero che possa servire ai posteri per districarsi un pochino tra le varie versioni di sketch up se poi farò veramente manuale su questo strumento chi può dirlo ma intanto come dire sto cominciando interessarmene ciao ciao